Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sarà presente anche il sindaco Mario Bruno. Sentiamo. Grazie a tutti. Andremo ad auspicare una completa rivisitazione progettuale dell'intersezione nella certezza che i progettisti sappiano trovare un'equilibrata soluzione che contemperi il rispetto della norma con le peculiarità ed unicità del territorio e le esigenze della comunità locale. In prossimità all'abitato, in considerazione delle opere interferenti, l'infrastruttura risulta caratterizzata da un consistente rilevato stradale che la connota come barriera sia in termini di impatto visivo sia in relazione ai vincoli conseguenti alle usuali attività agricole, si legge ancora. Nell'ambito dell'aspicata rivisitazione progettuale dell'intersezione, per il sindaco Mario Bruno sarà importante prevedere la possibile ulteriore connessione con l'abitato in località taulera, indispensabile per garantire un rapido accesso al presidio ospedaliero lì presente di primaria importanza. Sarà chiesto inoltre di procedere con la ricollocazione di tutte le senza arbore di pregio, interferenti e non compatibili con la realizzazione dell'opera. Per gli ulteriori aspetti di dettaglio verrà rappresentata l'esigenza di prevedere l'inserimento di una rotatoria intermedia nel ramo di circonvallazione in progetto tra l'intersezione e l'altezza della curva di via Simon Mossa al fine di ottimizzare i flussi di accesso all'abitato e la riconnessione della presistente viabilità che viene a sovrapporsi parzialmente all'opera in progetto. Appare opportuno inoltre valutare anche l'inserimento di una rotatoria nel punto di intersezione con la vicinale Ungiasi in sostituzione all'incrocio a raso. La richiesta trova motivazione in quanto la congiunzione e circonvallazione aereo-urbani in questione sarà quella maggiormente interessata da flussi veicolari indotti dalla nuova viabilità. Si infittisce dunque ora il confronto tra amministrazione comunale Anas, Regione Sardegna sulle fasi progettuali che richiedono ottimizzazione dei tempi e la sincronizzazione con la concomitante realizzazione della circonvallazione della città. Opera per la quale sono previsti 10,5 milioni di euro provenienti da due distinti finanziamenti della Regione. Alle porte c'è la valutazione di impatto ambientale da parte della stessa Regione Sardegna e il bando entro i 60 giorni successivi. E noi continuiamo a parlare dell'otto mancante della quattro corsie e del suo impatto perché una signora algherese che possiede una casa in un'area interessata dal passaggio dell'arteria stradale ha scritto una lettera al sindaco. Ascoltiamo perché. ...dandoli del tutto e allegando una foto della propria casa. Sei salito agli onori della cronaca nazionale per l'integrazione dei Rom, smantellando il campo e dando loro una dignitosa abitazione. Adesso diventa paladino della difesa dell'ambiente, così come dal tuo programma politico. Apre così la lettera con un accorato appello la signora algherese che ha inviato alla nostra redazione il proprio sfogo. La strada statale 291 farà risparmiare al cittadino che affretta la bellezza di alcuni minuti nella sua percorrenza tra Alghero e Sassari scrive 5 minuti di pura velocità barattati con una ferita nel territorio che è una delle poche aree verdi rimaste. Ulivi buttati all'aria, piccole campagne che fanno la tradizione degli algheresi e magari, perché no, case abbattute. Prosegue la cittadina colpita da un provvedimento disproprio. Secondo la signora Fiori basterebbe largare la strada esistente senza sventrare la campagna e senza passare in uno dei pochi polmoni verdi che ancora insistono sul territorio. Quindi un appello al sindaco affinché si opponga, anche perché scrive ancora la signora algherese rivolgendosi a lui direttamente. Dieci anni fa quando eri consigliere regionale, venivi alle riunioni invitato da noi cittadini, con l'allora Sessore e i lavori pubblici Mannoni promettevi di risparmiare l'ambiente, unico nostro bene. Ora cambiamo argomento che è passato nell'area portuale in queste settimane, ha spesso notato cumuli di sacchetti di rifiuti abbandonati, anche in assenza di cassonetti. Situazione che abbiamo già affrontato anche nel nostro telegiornale, che è stata al centro nell'ultimo periodo di polemiche politiche, ma anche di uno scambio di vedute, se così vogliamo chiamarlo, tra l'Assessore regionale, agli enti locali a Rio e il Comune. Ora su questa vicenda interviene anche il Partito Democratico. Sentiamo. Sulla raccolta dei rifiuti al porto nei giorni scorsi si è discusso in abbondanza. Le immagini di sacchetti abbandonati in bella mostra hanno monopolizzato spesso le homepage dei social network. È scomodato anche l'Assessore regionale Rio, che inizialmente aveva dichiarato come la pulizia dell'area portuale fosse di competenza del Comune, che incassa l'Atari anche dai titolari delle concessioni demaniali, salvo poi fare marcia indietro e uscire pubblicamente con una nota congiunta con il Comune algerese, chiarendo che la competenza fosse demaniale. Inevitabili le polemiche politiche con Forza Italia, che ha parlato di solito stantio scaricabarile da parte di Brulo, sottolineando come le disastrose condizioni del porto abbiano minato le immagini di Alghero e attaccando la Giunta per i ritardi nella procedura per il nuovo appalto di nettezza urbana. Parole che hanno provocato la reazione della lista per Alghero, che ha ribadito come la competenza sia del demanio, e come il Comune attende ancora l'approvazione del piano di gestione raccolta rifiuti nel porto, perché solo in presenza di questo strumento potrà avviare le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. A riaccendere alla polemica ci pensa un altro partito di opposizione, ora il PD, che in una nota ricorda come gli utenti del porto paghino la Tarsu, il tributo per un servizio che deve essere erogato da chi incassa, cioè il Comune. Se è vero che il piano dei rifiuti portuali deve essere approvato, è altrettanto vero che l'amministrazione comunale può espletare il servizio che le compete anche sulle aree demaniali, precisa il segretario cittadino Mario Salis, rifacendosi alla legge regionale numero 9 del 2006, che con l'articolo 41 trasferisce le funzioni amministrative regionali sul demanio marittimo ai Comuni, un trasferimento operativo dal 2008. I capitoli di spesa della Regione relativi ai finanziamenti per la manutenzione ordinaria, gestione dei porti di interesse regionale, come quello di Alghero, sono da anni privi di stanziamento e previsti per memoria, proprio perché le funzioni sono state attribuite ai Comuni, scrive il segretario del Partito Democratico, che chiude la nota con una dura critica. Nell'attesa che si materializzi il cronoprogramma del sindaco, dopo le minacce di denunce e l'autorità costituita, la città mantiene modificati i problemi di igiene e decoro. Ora parliamo invece di trasporto aereo, perché dopo le polemiche e le lamentele dell'ultimo periodo, per la quasi impossibilità di trovare posti disponibili sui voli della continuità territoriale nei mesi di agosto, Alitalia ha annunciato che per venire incontro alla forte domanda per le prossime due settimane sta introducendo ulteriori aumenti di capacità attraverso l'utilizzo di aerei più grandi. Nella giornata di ieri, anzi, nella giornata di ieri, scusate, Alitalia sta rendendo disponibili circa 500 posti aggiuntivi nei collegamenti con l'isola fino a domenica 30 agosto. Ulteriori aumenti di capacità sono previsti per la settimana prossima. Nella stessa nota la compagnia aerea precisa che negli ultimi tre mesi sono stati aggiunti altri 25.000 posti per un totale di 140.000 sulle quattro tratte servite, Cagliari-Roma, Cagliari-Milano-Linate, Alghero-Roma e Alghero-Milano-Linate. Ed è operativo il primo punto informazioni del Parco Naturale Regionale di Porto Conte a Fertilia, che era stato inaugurato nei giorni scorsi. Nel locale concesso dalla Regione, riqualificato e allestito in via Pola, verranno fornite dalle guide esclusive del Parco informazioni sull'area protetta regionale, sul suo valore naturale, ma anche sull'opportunità di corretta fruizione. L'ufficio, in stile minimalistico ma funzionale alle esigenze per cui è stato realizzato, è aperto al mattino dalle 10 alle 12 e di sera dalle 18 alle 22. Non solo informazioni, comunque da parte delle guide del Parco, che opereranno all'interno, ma una fitta serie di micro-eventi spalmati settimanalmente da agosto a ottobre. Eventi volti alla conoscenza dell'area protetta, ma anche dei prodotti e servizi, e in modo particolare un'attenzione significativa sarà dedicata alla Laguna del Calic, l'area umida più prossima alla città di Alghero, e attaccata alla Borgata di Fertilia, che rappresenta il primo luogo naturale del Parco di Porto Conte. Verranno inoltre promosse iniziative, volte alla valorizzazione del pesce povero che si pesca nella Laguna del Calic, con eventi enogastronomici di degustazione e il coinvolgimento di pescatori e ristoratori del territorio. Sotto i portici di Via Pola potranno inoltre essere acquistati i prodotti che hanno conseguito il marchio della rete dei parchi e delle aree protette. Ora facciamo una piccola pausa per la pubblicità, tra poco. Ben ritrovati con la seconda parte del nostro telegiornale. Domani, mercoledì 26 agosto, presso la Sala Consigliare del Comune di Orosei, si terrà la conferenza e presentazione della mostra Català Lengua d'Europa, promossa dall'Assessorato della Cultura di Orosei e organizzata dalla Direzione Generale di Politica Linguistica del Governo della Catalonia, in collaborazione con la sua sede di rappresentanza ad Alghero. La mostra è stata presentata per la prima volta al Parlamento Europeo di Strasburgo ed è stata esposta in diverse città europee. Nel periodo di permanenza al Museo del Barça è stata visitata da oltre 800 mila persone. Ora si presenta ad Orosei dopo un passaggio all'Università degli Studi di Sassari a Biblioteca del Mediterraneo d'Alghero e alla Biblioteca regionale a Cagliari. Il materiale descrittivo della mostra è stato pubblicato in catalano, inglese, italiano e anche in sardo, redatto a cura dello sportello linguistico regionale. Sarà possibile visitare la mostra seguendo le indicazioni degli orari del Comune di Orosei fino al 20 di settembre. L'Avis di Alghero invece ha organizzato per giovedì 27 agosto la decima e ultima giornata di raccolta sangue estiva. Dalle 8 a mezzogiorno nei giardini pubblici di Via Vittorio Emanuele di fronte al Monumento della Lingua sarà presente l'Auto Emoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue in un momento di particolare bisogno come il periodo estivo. E ora passiamo allo sport perché l'Under 16 e 18 aprono ufficialmente la stagione 2015-2016 del Rugby Cittadino. Nei prossimi giorni la presentazione del nuovo organigramma. Il 31 agosto invece al Via ha anche la preparazione atletica dell'amatori rugby Alghero di Serie B che comincerà il campionato il prossimo 18 ottobre tra conferme e novità. 16 e 18 ad aprire ufficialmente la stagione 2015-2016 del Rugby Cittadino Targato Amatori Rugby Alghero insieme ad Algheregby. A giorni sarà ufficializzato il nuovo organigramma del settore giovanile. Il movimento della palla ovale di casa nostra si prepara quindi per una nuova avventura che vedrà impegnate le squadre nei vari campionati giovanili, Serie C e naturalmente la Serie B nazionale. E proprio per quanto riguarda quest'ultima la federazione ha già diramato i gironi e quindi è tutto pronto per cominciare la fase di preparazione al prossimo campionato che partirà il 18 ottobre slittando di qualche settimana vista la disputa della Coppa del Mondo di Rugby in programma dal 18 settembre e che si disputerà in Inghilterra. A Maria Pia si respira già aria di nuovi impegni anche se l'attività sportiva non si è mai fermata in tutta l'estate così come il lavoro da parte della dirigenza che si sta impegnando per organizzare l'organigramma per quello che concerne l'attività giovanile ritenuta fondamentale per il rugby nostrano così come per la composizione della rosa della prima squadra che andrà a rappresentare i colori giallorossi sui campi italiani. Il presidente dell'amatori rugby alguero resta Franco Badessi così come il vice e ancora Alessandro Pesapane con loro lavorano a stretto contatto il direttore sportivo Ignazio Zito insieme al team manager Ignazio Marinaro e un nutrito gruppo di dirigenti che già dallo scorso anno fanno parte della grande famiglia amatori. Si parte dalle conferme lo zoccolo duro restano i tanti giocatori algheresi che hanno dimostrato di tenere alla maglia e che saranno guidati anche per questa stagione da Marco Anversa. A loro si aggiungono Michele Lupi e Toto Ceglia che sono stati riconfermati in squadra visto l'impegno e l'apporto che sono riusciti a dare nel passato campionato. Le novità non sono finite si attendono infatti alcune risposte per nuovi arrivi che andranno a completare la rosa esistente. Intanto lunedì prossimo, 31 agosto partirà ufficialmente anche la preparazione della Serie B. In quell'occasione saranno presentate novità e ingressi sia per quanto riguarda la società che la squadra stessa. Inoltre potrebbe arrivare a giorni la chiusura di un accordo con un main sponsor che sosterrebbe l'amatore rugby al Ghero in questa nuova avventura. E ora apriamo una piccola parentesi calcistica. Ieri nel nostro telegiornale vi abbiamo parlato dell'inizio della preparazione per Fertilia e 1945 al Ghero e proprio la società giallorossa ha organizzato per domani, mercoledì 26 agosto un raduno per ragazzi nati negli anni 1997, 98 e 99. Gli interessati si devono presentare alle 18 al campo di Santa Maria La Palma. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 338 25 45 714. E ora invece parliamo di una gara tradizionale che si svolge d'estate nel nostro territorio. Si tratta della competizione denominata dal mare alla montagna che da Poglina giunge sino a Villanova. Ben 120 gli atleti alla partenza affolta anche da rappresentanza algherese. Questa domenica successo e partecipazione per l'ormai tradizionale gara dal mare alla montagna che da Poglina porta a Villanova giunta alla 14esima edizione. Al via 120 concorrenti giunti da tutta la Sardegna ma anche molti turisti in vacanza che si sono voluti cimentare nella difficile ascesa. Subito dopo la partenza due atleti Alberto Di Petrillo Toscano della società Atletica Vinci già vincitore in questa competizione e Francesco Canu della Canne Duittiri hanno preso il largo transitando dopo sei chilometri di gara nelle prime due posizioni con Canu in testa seguiti in terza posizione ma abbastanza attardato dal vero Azzeni che ha preceduto l'algherese Marco Passerò e poi Sergio Piga e Salvatore Morittu. Al passaggio dei 12 chilometri cambio in testa con Di Petrillo che riesce a passare Canu. Fra le donne a transitare per prima è stata Alice Capone dell'Atletic Team Sassari. Vittoria infine per Alberto Di Petrillo con il tempo di un'ora 17 minuti e 32 secondi seguito da Francesco Canu e Alverio Azzeni. Al quarto posto Marco Passerò seguito da Stefano Aprizza Sergio Piga Salvatore Morittu Damaso Enna William Rubatto e Dario Tuveri. Dunque da registrare positivamente la presenza di ben quattro atleti di Alghero nei primi dieci posti. Nella classifica femminile a trionfare è stata Alice Capone che ha tagliato il traguardo in un'ora 26 minuti e 42 secondi seguita da Rita Angela Porco e Paola Addari. Al quarto posto Daniela Pisu mentre al quinto troviamo Rossella Soriga. Folta la presenza di atleti locali rappresentanza delle società Alghero Marathon Alghe Runners e i tesserati per la podistica Sassari. Plauso da parte dei partecipanti all'organizzazione che si è dimostrata impeccabile. Allora complimenti agli atleti algheresi ma potremmo dire un po' tutti anche per avere sfidato il caldo questo servizio chiude l'edizione odienna del nostro telegiornale. Ora come sempre spazio e le previsioni del tempo per domani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.